il piccolo principe capitolo numero 13 il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari quest'uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe buongiorno gli disse questi la vostra sigaretta è spenta 3 più 2 fa 5 5 più 7 12 12 più 3 15 ah buongiorno 15 più 7 fa 22 22 più 6 28 non ho tempo per riaccenderla 26 più 5 31 dunque fa 500 un milione 622 mila 731 500 milioni di che sei sempre lì 500 un milione di non lo so non lo so più ho talmente da fare sono un uomo serio io non mi diverto con delle frottole 2 più 5 7 500 un milione di che ripete il piccolo principe che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa l'uomo d'affari alzò la testa da 54 anni che abito in questo pianeta non sono stato disturbato che tre volte la prima volta è stato 22 anni fa da un melo tonta che era caduta chissà dove faceva un rumore spaventoso e ho fatto quattro errori in un'addizione la seconda volta è stato 11 anni fa per una crisi di reumatismi non mi muovo mai non ho il tempo di girandolare sono un uomo serio io la terza volta eccolo dicevo dunque 500 un milione milioni di che l'uomo d'affari capì che non c'era speranza di pace milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo di mosche ma no di piccole cose che brillano di api ma no di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni ma sono un uomo serio io non ho il tempo di fantasticare di stelle eccoci di stelle e che ne fai di 500 milioni di stelle 500 un milione 622 mila 731 sono un uomo serio io sono un uomo preciso e che te ne fai di queste stelle cosa me ne faccio sì niente le possiedo tu possiedi le stelle sì ma ho già veduto un re che i re non possiedono ci regnano sopra è molto diverso e a che ti serve possedere le stelle mi serve ad essere ricco e a che ti serve essere ricco a comprare delle altre stelle se qualcuno ne trova questo qui si disse il piccolo principe ragiona un po come il mio briacone ma pure domandò ancora come si può possedere le stelle di chi sono rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari non lo so di nessuno allora sono mie che vi ho pensato per primo e questo basta certo quando trovi un diamante che non è di nessuno è tuo quando trovi un'isola che non è di nessuno è tua quando tu hai un'idea per primo la fai brevettare è tua e io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle questo è vero disse il piccolo principe ma che te ne fai le amministro le conto le riconto disse l'uomo d'affari è una cosa difficile ma io sono un uomo serio il piccolo principe non era soddisfatto io se possiedo un fazzoletto di seta posso metterlo intorno al collo e portarmelo via se possiedo un fiore posso cogliere il mio fiore portarlo con me ma tu non puoi cogliere le stelle no ma posso depositarle alla banca ma cosa vuol dire vuol dire che se scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto è tutto qui è sufficiente è divertente penso al piccolo principe è abbastanza poetico ma non è molto serio il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quelle dei grandi io disse il piccolo principe possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni possiedo tre vulcani dei quali spazzo il cammino tutte le settimane perché spazzo il cammino anche di quello spento non si sa mai è utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga ma tu non sei utile alle stelle l'uomo d'affari aprì la bocca e non trovo niente da rispondere e il piccolo principe se ne andò decisamente i grandi sono proprio straordinari si disse semplicemente durante il viaggio grazie a tutti